Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo disse Gesù ai Suoi discepoli Quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della Verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoge, anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Verrà il Paraclito che io manderò dal Padre. Con queste parole Gesù promette ai discepoli lo Spirito Santo. Il dono definitivo, Il dono dei donni Il Paraclito è il Consolatore. Tutti noi, specialmente nei momenti difficili, cerchiamo consolazioni. Ma spesso ricorriamo solo a consolazioni terrene, che svaniscono presto, sono consolazioni dal momento. Gesù ci offre oggi la consolazione del Cielo, lo Spirito e il Consolatore perfetto. Qual è la differenza? Le consolazioni del mondo sono come le anestetici. Danno un sollievo momentaneo, ma non curano il male profondo che ci portiamo dentro. Distolgono, distraggono, ma non guariscono le radici. Agiscono in superficie, a livello dei sensi e difficilmente del cuore. Perché solo che ci fa sentire amati così come siamo, dà pace al cuore. E lo Spirito Santo, l'amore di Dio, fa così, scende dentro, in quanto Spirito agisce nel nostro spirito. visita nell'intimo del cuore, come ospite dolce dell'anima. È la tenerezza stessa di Dio che non ci lascia soli, perché stare con chi è solo è già consolare.